Test per il drone, pilota Federico Maio e niente, ci siamo Buono E' una bella concentrazione del botte di Federico Un altro test Ok ora lampeggia stranamente, tipo scarico Tipo che scarico Ecco lo che arriva Molto Molto Ma dai compare Minchia ma fai perdere gli anni di vita Arrivo Contra quella C'è un son allucinante Non lo puoi finire al popolo No Mi piace un'ora di avere il telefono Farai che il telefono Sì è anche il telefono Ah Meraviglioso Vedo il fiume Oh bellina sta cosa Poi la prima managgia da lei però Allora Sì è un'ora Guardate Sì è un'ora Mi piace Io ci vedo così lì Ecco Giulia Sì 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 È un trans Ma ti giuro che cambia completamente C'è una ragazza che cambia totalmente Ma ti giuro un'altra si tratta a livello no, a livello pazzi siamo pazzi pazzi siamo pazzi ma non so ah ricollegatemi la batteria qualcuno aspetta non c'è che passo pesa un po non doveva vedere il film a scopetta no, sul ponte ok, uno, due, tre e quattro, cinque, sei vai, andiamo via 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 una lunga estate basta � отнош per me mi chiamo jessica venuti ho 24 anni vengo da parcella una puzza di cotto Grazie a tutti.